Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Mancano ancora sei mesi ma è già campagna elettorale per le comunali di Avellino. Ieri conferenza stampa di Luca Cipriano, uno dei candidati certi alla carica di sindaco. Enunciate le regole imprescindibili che dovrà osservare chi intende far parte della sua squadra. Eccole, rinnovamento, competenza, idee. Come si vede si tratta di soli tre comandamenti. Va dato atto a Cipriano d'essersi mantenuto al di sotto degli standard di nostro signore.